Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie No, anche il tempo no, ma tanto potrete sempre mezz'ora Porco Dio Dio cane Dio cane No Si è spaccato la sveglia del trono Ciao sono Vincenzo, 32 mesi qua, sempre al top capo 100% Hanno parlato per me? Eh si Ciao a ti, grazie ai video, 32 mesi Grazie bene Vincenzo, vedi che tu sei voluto bene? Meno male Meno male che non hai voluto male Ma serio? Allora, fanno un cazzo via Eh ragazzi se non mi dite chi... Ma fanno un cazzo via Ma fanno un cazzo via Meno male che cosa dici se puoi raggiungerci che non lo so, non riesci a parlare, è ferito gravemente Puoi informarti che io vedo un attimo se riesco a capire un paio di cose Sì Intanto che finisco di fare un'altra cosa Ok Vabbè Fammi sapere, per favore Sì Ammi scusi, se vuoi andare a vedere vanti Non si preoccupi No, 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 non si preoccupi Come dire È molto incongruente questa cosa che... Ma cosa che fa la camera fuori? Fa freddo Fra, fa freddo, porfa, 4 gradi Che cazzo apre, ma sei scema Cioè non lo so, boh Ti dico, guarda che bella rafrescia Ti dico Cazzo Porca puttana Allarme Allarme Sono la vicina di sopra ha posato i soldi 2 euro La vuoi firm di fare fichi fichi? Se non la smetti sono obbligata a chiamare le autorità Sono stata costretta da Kranos 96 ad agire in questo modo O la finisci o mi fa mangiare polenta per un mese Meglio muri ca' vivera cussi Almeno sanità Avere? Figuro, figuro Eh sì, cura Figuro, figuro No, tre medici ti ho usato, cazzo No, già no Meglio Vabbè, dai Ma uccida a me Oh, le boccette di sangue tocca mettere di sotto Eh, ma dove sta il cimitero? Mannaggia, Gesù Cristo Vai giù Mamma quanto è brutto Mamma santissima Porco Dio C'è il tuo cazzo, hai capito? Così donazionam, capito? Che is E Kranos C'è tutto cazzo come uno sforco, bastardo Piezza e merda, grandaluta Mucca chi te è stramorto Mucca che la puttana Mamma da cadene sguarrata Rindacca la fisse E mamma da Mucca chi te è morto Chi te è stramorto E capito? Dino cuore sforzo Stasera ti manco putella na casa Mucca chi te è morto Anonymous ha posato i soldi 3 euro e 33 centesimi Maestro questa cena ha una qualità superiore a qualsiasi asporto Complimenti Ah e Bob ho dovuto riattaccare Cammy fino all'Android Non va bene l'Arix Crash ogni due secondi E la ciotola ha vista Che purtroppo non lo so perché Ma sto usando Cammy fino al male E va molto meglio La Bibbia La Bibbia Non è come oggi no Aiutato Aiutato Ma porca miseria Eh Andiamo Hanno bloccato la live Che ha fatto il tiktok Ma che facciamo sangue Gesù Cristo Mannaggia La maronna Santissima Porco Dio Tutti i santi in colonna Tutti i santi in coppo Calendario Porca C'è la puttana Mannaggia Gesù Cristo Ma siete proprio scema Che proprio cucerù Mancava Che in uccellina Che è stato in Debo Riportose Le orecchie Mannaggia Gesù Cristo Porca Puttana Ma trutto Cazzo No piglia Stacca Posta la live Questa tiktok Mannaggia La maronna Abbiamo bloccato Potrebbe Il consumo Il tabacco Potrebbe influenzare I minori Abbiamo limitato La possibilità Di trovare la live Ma io da affaticare Io da zappare Ma io da zappare Vui e tiktok Abbiamo limitato 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 io non so mai arrivato qua questa sera sei spezzato perché mi hai tradito lo sai amore mi hai messo le corna lo so sei una troia puttana e zoccola mamma mia ma c'ha già fa te ne vai a fangulo mo i vago ucchiella là che è meglio di zoccola puttana e troia tutti quanti sti filmano qua ci mettono le corna belle e buona e non denno manco coraggio ce la cia che mi guardi da lontano io non ti vedo e che mi vedi da vicino io non ti penso da lontano e ti ho guardato lì seduta piano piano la mia vanno diffiorato e avvicini piano piano io ti mando affanculo troia non avere paura lei ti difenderà dal male e da tutto oggi che giorno è oggi è 11 11 gennaio la notizia dell'indegnità potenziale che consiste nel conoscere quello che saremo e che potremo commettere senza l'assistenza della grazia e che ora ne abbiamo parlato non si deve confondere con quella dell'indegnità attuale la prima rende accettabile e gradita la creatura al cospetto dell'altissimo la seconda la rende detestabile perché il riflesso della iniquità presente nell'anima nelle coscienze nell'attore che